Penso Silvio Berlusconi a quell'immagine che aveva dato di sé al paese di leader imprenditore, elemento dirompente e dinomativo, uomo d'azienda che avrebbe amministrato l'Italia come bene aveva fatto con le sue aziende. Che stagione? Ora se ne è aperta un'altra, con un'altra immagine, di una leader mamma. Ora, mamma è una parola davvero strana, è una parola dolce, quando la dici racconta amore, eppure è una parola terribilmente potente. E che fortuna abbiamo noi, protagonisti del nostro tempo, di vivere la stagione di una leader mamma, di una leader autorevole e credibile sul contesto internazionale, intransigente e determinata quanto amorevole, come solo una mamma sa fare con i propri figli. Ecco, guidati da una donna leader e mamma, che con intransigenza si prende cura dell'Italia come una mamma ama i propri figli. Che fortuna abbiamo noi!